Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi farò vedere come risolvo il 5x5 facendo una specie piccola guida vi lascio lo scrambio in descrizione e partiamo subito allora la prima cosa da fare è ovviamente esaminare il cubo subito ci balza all'occhio questo blocco 3x1 centrale è giallo abbiamo qua un pezzo giallo e qua un altro quindi io farei così e abbiamo formato il blocco centrale da 3 qua abbiamo quello laterale e ci rimane da fare l'ultimo 2 sono già fatti e l'ultimo terzo è qua e adesso abbiamo formato il nostro primo centro giallo quindi giriamo il cubo di 180 gradi e dobbiamo fare quello bianco allora vedo un pezzo centrale qua qua creiamo un altro da 2 io lo risolvo di solito o facendoli a blocchi di 2 così oppure a blocchi di 3 interi quindi facciamo un blocco da 2 creiamo un altro blocco da 2 e adesso facciamone uno da 3 e per finire inseriamo l'ultimo pezzo e abbiamo fatto il centro bianco adesso facciamo gli ultimi 4 centri allora vedo qua un pezzo da 2 blu qua un altro blu e qua si è formato un altro pezzo da 2 blu creiamo un pezzo da 3 blu e lo inseriamo e abbiamo fatto il centro blu adesso facciamo quello arancione o meglio facciamo quello rosso ci conviene di più creiamo il nostro ultimo pezzo rosso e ok adesso ci mancano gli ultimi due allora adesso si possono usare i commutatori oppure comunque diciamo si possono raggirare e infatti come vedete l'ho risolto senza commutatori se avessi voluto usare i commutatori avrei fatto questo mosso avrei messo il pezzo verde l'ultimo pezzo verde che rimane in direzione di dove dovrebbe andare quindi se mi manca quello in basso a destra lo metto in basso a destra sulla faccia di sopra quindi faccio a basso giro lo riparo rimetto a posto questo pezzo lo rigiro e lo rialzo e abbiamo fatto un commutatore abbiamo usato i commutatori bene adesso iniziamo a creare i nostri spigoli vediamo subito questo giallo e verde giallo e verde e il pezzo centrale giallo e verde quindi inseriamo nel frattempo ho visto anche questo pezzo blu e giallo e quest'altro blu e giallo quindi inseriamo quest'altro e abbiamo fatto anche il pezzo giallo e blu adesso facciamo arancio e giallo arancio e giallo e l'ultimo è qua quindi inseriamo questo e infine quest'altro abbiamo fatto lo spigolo arancio e giallo facciamo quello arancio e verde ecco e adesso abbiamo come vedete l'ultimo spigolo da inserire e da flippare quindi usiamo l'algoritmo lascio anche questo in descrizione questo algoritmo in pratica serve per girare lo spigolo infatti come vedete adesso è verde e arancio e adesso è arancio e verde quindi rinseriamo e abbiamo completato la nostra prima faccia di sopra quindi adesso possiamo girare il cubo e passare alla faccia di sopra allora vedo qua un bianco e blu bianco e blu e bianco e blu lo sostituisco metto qua ok adesso abbiamo arancio rosso e verde e un altro rosso e verde mettiamo prima quello da 1 e poi mettiamo quello da 2 e abbiamo creato lo spigolo arancio e verde adesso facciamo quello bianco e verde bianco e verde bianco e verde e l'ultimo è qua dietro e infine facciamo quello bianco e arancio uno è qua e l'altro sta qua e inseriamo anche quest'altro adesso abbiamo completato la faccia di sopra e la faccia di sotto possiamo aggiustare i centri e infine completare gli ultimi 4 spigoli abbiamo come vedete uno già formato 2 terzi di bianco e rosso e l'altro bianco e rosso è qua allora adesso useremo l'algoritmo che flippa gli spigoli infatti abbiamo il bianco e rosso qua e bisogna metterlo a questo posto quindi lo mettiamo qui e l'abbiamo inserito ok adesso facciamo lo stesso con questo e infine vi possono capitare due casi ho questo che in pratica abbiamo 2 terzi e 2 terzi fatto però uno è diciamo sbagliato da flippare e questo diciamo è il più facile il più veloce da risolvere infatti basta semplicemente sostituire questo pezzo flippato a quello giusto e fare l'algoritmo che gira gli spigoli oppure vi può capitare questo caso che è quello del 5x5 dove abbiamo due terzi degli spigoli già fatti e diciamo in ordine e vi lascio anche questa mossa in descrizione e adesso lo risolviamo come fosse un cubo 3x3 normale e niente abbiamo risolto il nostro 5x5 spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo grazie mille grazie mille